test icoli 1 2 test icoli 1 2 ehi ragazzi come butta qui vi parla il vostro pilota rasta il comandante antoine nec sembra simpatico benvenuti sul volo nwa 0 6 9 un numero fantastico per un volo fantastico è ora di alzare i tacchi ragazzi tra un secondo mi metto a smanettare e tiro su questo bel giocattolino cosa quindi strizzate la cinta e godetevi il volo cosa che ha detto stava dicendo che decolleremo tra un paio di secondi quindi allacciate la cintura e stringetela bene ora decolliamo ok che cretini perché non l'ha detto allora game perché non vai a chiudere la cabina bello questa figlia di puttana è chiusa fred g sanford mito e la g sta per giramondo come la vedi ora siamo pronti a partire ce l'ha di comandi questo trabicolo eh mh merda funziona questo coso è uno sballo si oh mio dio cazzo che forza andiamo di rimbalzo come un elefante rimbalza 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 si ho la musica perfetta per questo si ce l'ho qui ehm 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 amico aspetta spegni cazzo no 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 tu devi spegnere quella robaccia non possiamo volare con quella roba capito? non offenda la mia musica ok? voliamo con un bel gangster rap mettilo non voglio sentire quella lagna africana wah 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 toglila quello che è toglila sono io il comandante di questo cazzo di aereo e io i smoke like a gemini ma Ma cosa diavolo le prende? Ho paura dell'altezza! Paura dell'altezza! Ma cosa diavolo le prende?